Siamo qui con Benny della squadra italiana, l'ultimo in porto da Milano. Raccontaci com'è andata stasera. Stasera non è andata come previsto, speravamo di vincere anche perché volevamo riscattarci dalla prima partita che abbiamo fatto e abbiamo perso. È una partita molto strana, molto combattuta. Diciamo che non abbiamo giocato al massimo come speravamo di fare. Siamo riusciti a riagganciare all'ultimo la partita con un rigore, ma la stanchezza un po' si è fatta sentire e proprio all'ultima azione abbiamo preso gol e finito a 5-4. Dove dovete migliorare? Credo di dover migliorare personalmente nella condizione fisica, anche perché non sono in attività fisica da un po' di tempo. Sotto forma della squadra credo che forse la compattezza e la marcatura uomo dovrebbero essere più decisiva e più precisa. Qualche sera fa eri a bordo campo a guardare la partita, meglio guardare o essere protagonista? Credo che per certi versi sia meglio essere protagonista, perché comunque puoi dare il massimo, puoi dare il 100%, ma spero un giorno che comunque possano essere gli altri e essere gli spettatori per me. Ok, grazie, in bocca al lupo Ben. Grazie.